Straordinari salvataggi in Argentina. Un gruppo di orche assassine è stato salvato e rimesso in acqua dopo che la marea le ha portate a riva. È avvenuto in alcune famose località balneari come Mar del Plata. Uno sforzo di salvataggio è durato tutto lo scorso fine settimana. La missione è stata compiuta dalla Marina Argentina, dalla Marine World Foundation e da numerosi volontari. Le orche, considerate le più intelligenti tra le balene, hanno una lunghezza media di 6 metri e un peso oltre le 3 tonnellate e mezzo. Abbiamo visto che ogni volta stava diventando più complicato, spiega Florenzia Speciale della Marine World Foundation, ma eravamo troppo concentrati sull'obiettivo di ottenere questo risultato, di riportare le orche di nuovo in mare. Non ho parole per spiegare cosa sto provando. È un sogno, un sogno diventato realtà. È incredibile. Appena terminato il salvataggio delle orche, un'altra balene è rimasta spiaggiata lungo lo stesso tratto di sabbia e gli stessi soccorritori hanno salvato e rimesso in acqua anche la balena.